Inaugurata a Monasterace una mostra permanente ospitata presso il centro di aggregazione Rocco Lombardo. Tanta arte racchiusa nei concetti e soprattutto in una miriade di opere di pittura, scultura e fotografia. L'iniziativa è organizzata da Palmiro Spanò, presidente di Monasterace Arte, insieme ad un gruppo di otto artisti denominato CAM Collettivo Artisti Monasterace. L'iniziativa durerà fino al 10 agosto, un regalo per i turisti e i curiosi che intendono visitarla. Un'esposizione dedicata anche alle figure illusci dei pittori come Giuseppe Armucida e Max Tabarelli. In questo periodo gli otto artisti metteranno in mostra la loro arte, fra questi lo stesso presidente dell'associazione Palmiro Spanò, che in questi anni ha approfondito notevolmente la sua tecnica pittorica. E poi gli scultori come Mariano Chidichimo, che grazie alle sue fedeli riproduzioni delle opere di Leonardo ha mostrato la sua arte nel mondo. E poi anche lo spazio al talento di Ruslan Ivani Toschi, artista e cittadino italiano di origine ucraina, che ha partecipato a varie mostre e concorsi di pittura e scultura in giro per il mondo. E poi un artista emergente come Guido Coniglio, architetto e pittore sul modello di De Chirico. Un artista invece a tutto tondo quando parliamo di Maria Grenci, che da anni espone nel suo studio d'arte a Monasterace, molto apprezzata e ben conosciuta in tutto il territorio. E poi ancora la mostra ha visto la presenza del restauratore Franco Marafioti, tra gli altri anche spazio all'arte fotografica con Anna Fossataro, che con la sua macchina fotografica è riuscita a riprendere e a racchiudere i segreti dei paesaggi. Ed ancora Tonina De Leo, diplomata al liceo artistico, che ha messo in mossa la sua bravura artistica utilizzandola anche nel suo lavoro. Si capisce chiaro che si tratta di otto artisti diversi tra loro, ma che si completano vicendevolmente. Insomma un collettivo che promette da ora in avanti di essere una sola realtà artistica. E chiaramente non solo per Monasterace, ma qui parliamo dell'intero territorio. Grazie a tutti.